guarda che ammascia no? si che avevano paura che team baffè avevano hanno avuto paura hanno visto come si è girato strellino guardi ningo figli hanno capito che partiva a un certo punto guarda che stop se ne va hanno capito che ci metteva male lo stelle ora c'è una chance amici c'è una chance bellissima ma mancino no? qui è rete eh rete i rete 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 lo s'hai finito come vavete griffman regala un parezzo in 10 incredibile dove la mette? non ci crede nessuno ora vediamo dove è finito sto pallone griffman traversa palo culo non si sa cosa è successo lo andremo a rivedere dovremmo vedere con la replica dove abbiamo usato il culo del portiere dove abbiamo preso la traversa no 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 no